I carabinieri di Taormina hanno tratto in arresto una 19enne della provincia di Catania per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di droga predisposti nel centro di Giardini Naxos, nei pressi di un locale molto frequentato dai giovani, i militari dell'arma hanno fermato il 19enne il quale si aggirava nelle adiacenze del locale con fare sospetto. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato nella sua disponibilità 8 grammi circa di marijuana e oltre 3 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi termosaldate, nonché un bilancino di precisione occultato nella propria autovettura, vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e 950 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, così come la droga che è stata inviata ai carabinieri del RIS di Messina per le analisi tecniche di laboratorio al fine di stabilirne il grado di purezza e il numero di dosi medie ricavabili. Il 19enne è stato invece arrestato e sottoposto ai domiciliari in attesa di essere condotto dinanzi al giudice del Tribunale di Messina per essere giudicato con rito direttissimo. All'esito dell'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto operato dai carabinieri e ha condannato l'imputato a un anno e dieci mesi, con pena sospesa per ricorso al rito del patteggiamento. I servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti proseguiranno soprattutto nei giorni e nelle fasce orarie interessati dal flusso della movida giovanile su tutto il circondario taorminese al fine di fornire un'incisiva attività di prevenzione e di dissuasione dei malintenzionati dal compimento di specifici illeciti nell'ambito dello spaccio di droghe.